Era il 1995 e su Rai 2 si sentiva per la prima volta questa sigla, la miglior serie animata dedicata a Spider-Man, l'Uomo Ragno. E ovviamente dove c'era una serie animata di successo c'erano i suoi giocattoli. Ed ecco qui ragazzi il giocattolo più rappresentativo di quella serie animata, ovvero Spider-Man Super Possible, ovvero lo Spider-Man super articolato, ovvero la figure che rappresentava al meglio lo Spider-Man della serie animata perché era piena zeppa di articolazione, non era una cosa molto comune a quei tempi tra i giocattoli. Comunque ragazzi io sono Ara, benvenuti in questo nuovo video, ecco qui la confezione di questa figure, una cosa abbastanza rara da avere comunque, sono felicissimo di averlo trovato in confezione anche se non è sigillato, è stato risigillato con del naso adesivo, ma non importa assolutamente. Guardate che spettacolo il blister con il logo classico caratteristico della serie animata, qui c'è persino un disegno personalizzato che non c'entra nulla con lo stile di Spider-Man della serie animata, ma viene direttamente dal fumetto. Invece sì, la figure ha lo stile proprio della serie animata e guardate qua che figata c'è anche la spilletta che molto spesso viene persa in questi giocattoli. È prodotta dalla mitica Toy Beads, vediamo il retro della confezione, naturalmente è distribuita in Italia dalla Giochi Preziosi. Guardate qua ragazzi che spettacolo, qui ci dice appunto che è super posabile in tutte le lingue del mondo praticamente. E qui ragazzi abbiamo la checklist con tutti gli altri personaggi inclusi in questa collezione, ovvero i nemici storici praticamente del nostro Spider-Man. Guardate che figata, Scorpion, Hobgoblin, Venom, Carnage, Rhino, spettacolo ragazzi. Ma direi di non perdere altro tempo e andiamo a vedere la nostra figure fuori dalla confezione. Ed eccolo qua ragazzi, in tutto il suo splendore, guardate che spettacolo. Andiamo a vedere prima di tutto comunque la spilletta, ripeto una cosa molto molto rara da avere, una cosa che si perdeva prima da bambini anche perché non ce ne importava niente diciamo la verità di questa spilletta ma ci importava semplicemente del personaggio. Comunque veramente figa con lo Spider-Man della serie animata e la scritta in questo rosso metallizzato con questa parte per attaccarla da qualche parte. Ora andiamo a vedere il nostro Spider-Man, guardate qua che figo, veramente ben fatto, non è perfetto ovviamente. Per esempio la cosa che non mi è mai piaciuta anche da bambino è che aveva questa parte, vedete, la parte frontale proprio vicino alla bocca, con le ragnatele un po' troppo lari. Ci sarebbe voluta magari una ragnatella nel mezzo oppure avvicinare le due righe laterali delle ragnatele per realizzarle un po' meglio. Comunque ragazzi, a parte questo, ora non stiamo a vedere tutti gli errori presenti su una figure di ben 24 anni fa ragazzi. Comunque è realizzata veramente bene, la stampa delle ragnatele è comunque precisa per essere un giocattolo. Qui c'è un po' una gocciolina di rosso nel simbolo che ha sulla parte posteriore. Come vedete ha la caratteristica di avere queste articolazioni, vedete, con questi pin di metallo appunto per renderle più solide. E appunto la sua caratteristica peculiare non aveva accessori ma era proprio quella di avere le super articolazioni, di essere super posabile. E infatti andiamo a vedere queste articolazioni, la testa, vedete, poteva fare questo movimento in su e in giù per esempio, poteva muoversi laterali in questo modo, può muoversi laterali in questo modo. Queste articolazioni per un giocattolo erano qualcosa di spaziale, fantasmagorico, guardate qui, il braccio può aprirsi lateralmente praticamente al massimo, può ruotare ovviamente, c'è il piegamento qui al gomito e il piegamento qui al polso, come vedete, ha il classico gesto della ragnatela da una parte e poi il pugno chiuso dall'altra. Poi abbiamo anche l'articolazione a mezzo busto, altra novità incredibile, guardate qui, questa articolazione ragazzi è data da un elastico che c'è all'interno della Fior, che tiene l'articolazione, vedete, la fa un po' scattare, come so questa cosa perché quando ero bambino si ruppe e vedi che all'interno c'era un elastico. C'è anche rotazione qui alla vita, il piegamento della gamba, anche questo molto molto ampio, c'è il piegamento anche all'indietro. Abbiamo, guardate qua, l'apertura laterale delle gambe, anche questa è un'articolazione pazzesca per l'epoca. Il ginocchio, vedete, può muoversi in questo modo, può piegarsi e poi abbiamo il piegamento del piede. Insomma ragazzi, quindi si potevano far assumere a questo Spider-Man delle pose niente male. Guardate qua, veramente fichissimo ovviamente, non possiamo paragonarlo agli Spider-Man che ci sono oggi e sono articolati veramente incredibilmente bene. Però ragazzi, questo era decisamente un giocattolo incredibile per l'epoca. Ed è la figure di Spider-Man per eccellenza dedicata a quella serie animata. Io sono stato felicissimo di poterla recuperare, finalmente. Fatemi sapere ragazzi, anche voi, cosa ne pensate di questa figure, soprattutto se seguivate quella serie animata di Spider-Man. Io sono veramente molto molto legato. Ripeto, non è propriamente a livello di quella di Batman, la serie animata di Batman, ma è leggermente sotto. Ma non troppo ragazzi, perché è una serie veramente ben fatta. Anche riguardandola oggi assolutamente non fa l'effetto, per esempio, che fanno le Tartarughe Ninja. La serie animata delle Tartarughe Ninja. Per quanto mi riguarda è stato proprio con questa serie animata di Spider-Man che ho conosciuto appunto l'Uomo Ragno e tutto il suo universo. Perché tra l'altro la serie lo fa conoscere veramente molto bene mettendoti davanti i nemici più caratteristici. C'è anche storie abbastanza, diciamo, famose dell'Uomo Ragno, naturalmente un po' reinterpretate, per non essere troppo crude magari in certi punti. Comunque ragazzi, ripeto, lasciatemi un commentino qui sotto. Il like al video è sempre gratuitissimo e anche la condivisione, se magari volete far ricordare questa serie animata di Spider-Man, questo giocatolo a qualcuno. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Superposable Spider-Man e collezionate sempre! Grazie a tutti!